A questo punto come prova salderemo un filo di rame multifilare, ovvero un unico filo composto da tanti fili molto più sottili allo scopo di renderlo più flessibile. A questo punto lo compattiamo in modo da avvicinare tutti i vari fili che lo compongono e a questo punto lo stagniamo. Avviciniamo il soldatore, mettiamo sul soldatore una piccola quantità di stagno e poi lo trasferiamo a un filo. Come vedete lo stagno penetra perfettamente tra i vari fili che lo compongono scaturando tutto quanto lo spazio conferendo una certa rigidità al tutto. Ecco fatto. Ecco. 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 Ecco.